Appunti per storie mai scritte. Questi sono i secondi appunti che trovo rovistando tra le mie carte di tanti anni. Credo che questi risalgano a una trentina di anni fa. Scese dal treno, si fermò sulla banchina e accese una sigaretta guardandosi attorno. La stazioncina del suo paese non era cambiata molto in tanti anni. Era solo un po' più sporca e trascurata. Era partito, anzi era fuggito, che aveva quasi 18 anni, lasciando nella disperazione i genitori e la sorellina, che era ancora una bambina. Una fuga per la salvezza, si era ripetuto in tutto quel tempo. Una fuga per non morire in quella casa, in quel paese, fra quella gente. Ed eccomi di nuovo qua, pensò aspirando una boccata di fumo. L'orologio della stazione segnava le venti. Era ormai buio quando arrivò alla sua vecchia casa. Aveva camminato a testa bassa, senza guardare in faccia le poche persone che aveva incrociato per paura che lo riconoscessero. Notò che il giardino era molto trascurato, pieno di erbacce. La facciata della casa era sempre uguale, solo un po' scrostata qua e là. La finestra della cucina era illuminata. Si avvicinò di soppianto come un ladro e sbirciò all'interno. La tavola era apparecchiata per la cena. Riconobbe con un tuffo al cuore la tovaglia a quadretti, quella di tutti i giorni. Suo padre sedeva a capotavola, come sempre. Suo madre serviva la minestra. Una donna giovane, ma dall'aspetto trascurato, rincorreva un bambino che fuggiva per tutta la stanza, emettendo dei gridolini divertiti. Tutti ridevano, ridevano di cuore. Il primo treno del mattino partiva le 4.23, per non importa dove. Lo prese dopo aver passato la notte nella minuscola sala d'attesa, ripensando a quei due vecchi, provati dalla vita e dall'età. A quella donna trascurata, a quel piccolo pieno di energia e a quelle risate sincere, autentiche, che risuonavano nella cucina. Ripensò a quel momento, quando stava per bussare col cuore che batteva forte nel petto e aveva notato, quasi per caso, appesi al muro sopra la credenza, due ritratti listati a lutto. Quello di un giovane uomo sorridente e quello di un ragazzino dall'aria imbronciata è molto, molto triste. Chissà cosa avevo in mente una trentina d'anni fa. Magari poteva venire fuori, non so, un racconto lungo, una novella, magari un romanzo breve, con tanti personaggi, tanti avvenimenti. Chissà. Però non ne è nato nulla. Alla prossima! Grazie a tutti!